Oh, è come se io provassi a raccontare un po' quello che è capitato subito dopo il coronavirus, eccetera, eccetera. Ma non voglio proprio più narrare ciò, io voglio illustrare proprio cos'è il posto contemporaneo, cioè, o meglio, cos'è successo dopo il coronavirus, dopo il covid-19, dopo l'epidemia. Una cosa è certa, che l'arte mi aveva salvato prima, nella pandemia, e l'arte mi sta salvando anche oggi, mi salva l'anima, mi salva il fatto della performance in sé, dell'arte. Cosa può dare il gesto, mentre fai una forma d'arte. E vi assicuro, vi assicuro, che l'arte mi ha risalvato. Con questo, volevo fare questo piccolo intro esordio per quello che verrà pubblicato con questo canale. Un saluto da Studio Camorrin, ragazzi. A domani. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ok. Alla prossima.